Signori, buongiorno e bentornati sul canale del MasterKa. Io sono il MasterKa e il vostro ospire su questo canale. Questa settimana iniziamo finalmente con le cose serie. Quello di cui parliamo oggi è il concetto probabilmente più importante e fondamentale non solo del gioco e ruolo ma della narrativa in generale. La sospensione dell'incredulità che è fondamentalmente quel concetto in base a cui nessuno si chiede mai perché se Willy il coyote aveva i soldi e la possibilità di farsi spedire le scarpe a razzo in mezzo al deserto non si è limitato a ordinare una cena d'asporto. Sì, ora la tua infanzia è rovinata. Immaginate l'inizio di una quest. Mentre siete seduti al tavolo della locanda a festeggiare la vostra ultima impresa, da un tavolo nell'angolo in ombra vi si avvicina uno straniero. Viaggio che mi è parito avventuriere. Dice. Sentite, io ci ho visto la mappa rota e solo la città perduta. Volete fare un accordo più spartere? La cosa vi sembra strana? Probabilmente la critica maggiore che mi è venuta a questa scena è che sia molto banale ed effettivamente lo è, ma ora provate a pensare a come reagireste voi se mentre siete seduti al bar con i vostri amici vi si avvicina uno straneo che vi propone una speculazione finanziaria di dubbio origine. Il motivo per cui durante una quest le cose più bizzarre e incredibili vengano proposte e accettate senza che nessuno lo trovi strano è proprio la sospensione dell'incredulità. La sospensione dell'incredulità o per dirla in maniera più precisa il patto di volontaria sospensione dell'incredulità è un accordo implicito tra chi racconta un'opera e chi la fruisce, nel nostro caso tra i membri del tavolo, i giocatori e il master. I giocatori accettano volontariamente di sospendere il loro giudizio sulla realtà e accettare per vere le descrizioni e le situazioni che il master gli propone e agire di conseguenza e il master dal canto suo accetta come vere le azioni dichiarate dai personaggi e modifica il mondo. In pratica questo è il motivo per cui nessuno trova strano che nel gioco siano presenti poteri magici, astronavi alieni, gente che potrà trasportarsi, persone che possono abbattere le pareti a pugni o quello che sia. Fintanto che la sospensione dell'incredulità tiene, tutti sono disposti ad accettare che qualsiasi cosa stia effettivamente succedendo in gioco e comportarsi di conseguenza. Tutti troveranno che la storia sia perfettamente sensata e razionale anche se a conti fatti non lo è. La sospensione dell'incredulità non implica però la sospensione di qualunque forma di analisi logica o senso della coerenza ma un loro adattamento in base al tipo di opera che sta venendo messo in scena. È un principio che si applica a tutte le opere narrative ovviamente, non solo al gioco del ruolo. In un film di fantascienza nessuno trova strano che quando un'astronave esploda nello spazio si senta un boato. A teatro è perfettamente normale che i personaggi parlino di profilo tra di loro e non di fronte. Ci sono anche questioni estreme che rientrano nella sospensione dell'incredulità. Se guardate un musical a un certo punto le persone cominceranno a cantare e ballare per parlare tra di loro che è una cosa che se succedesse nella realtà probabilmente attirerebbe molta attenzione mettiamola così. In un gioco di ruolo vale la stessa cosa. In base al tipo di gioco che state giocando alcune cose che potrebbero essere totalmente razionali in un gioco non lo saranno in un altro e viceversa. I criteri da seguire per creare il patto di sospensione dell'incredulità sono sostanzialmente due. La verosimiglianza e la coerenza. Quando uno o entrambi di questi due criteri viene a saltare il patto si rompe e viene generata illogicità nella storia. Normalmente questo fa in modo che l'ascoltatore rifiuti la storia la trovi banale o comunque non interessante. La verosimiglianza letteralmente cosa che appare come vera guardate bene che non vuol dire che gli eventi che vengono raccontati devono essere veri o veritieri ma che all'interno di un determinato contesto con determinate regole quegli eventi appaiono come veri. È una differenza sostanziale. Qualcosa di falso può risultare in determinato contesto verosimile e qualcosa di vero che è realmente successo potrebbe non essere verosimile all'interno lo stesso contesto. Se nella vostra ambientazione fantasy la magia è qualcosa di quotidiano e diffuso tanto che qualunque ragazzotto un po' sveglio può iscriversi all'accademia di magia per diventare un qualche tipo di incantatore allora è verosimile che se la magia è così diffusa del mondo non venga usata solo per tirare la palla di fuoco contro il goblin sfortunato in turno ma che qualcuno si sia ingegnato per trovare applicazioni magiche per costruire lampioni stradali metodi di coltivazione boiler per scaldare l'acqua o quello che è. Che il contadino fantasy abbia un aratro magico che ara il campo da solo in quel contesto è verosimile nonostante la magia non esiste questo sappiamo tutti e quindi quella cosa palesemente non può esistere non è vera è falsa. All'inverso se vi leggete il libro dei Guinness dei primati è pieno di persone che hanno fatto delle cose che se non fossero ampiamente documentate dall'organizzazione stessa non sarebbero creduti sono tutti fatti veri ma non sono affatto verosimili. L'altro principio da rispettare è quello della coerenza la coerenza vuole che le cose che succedono diano risultati in base a quello che è successo prima se qualcosa porta a una determinata conseguenza la stessa cosa dovrebbe portare alla stessa conseguenza se è stato stabilito qualcosa precedentemente quella roba continuerà a essere vera fino a quando non succeda qualcosa all'interno della storia che la cambi. Premesse simili devono portare a conseguenze simili se nella vostra storia horror viene stabilito che chiunque venga morso da uno zombie diventa a sua volta uno zombie è l'unico modo che si ha per uccidere uno zombie e colpirlo in testa questo deve continuare a valere per tutta la durata della quest a meno che i giocatori o qualche png non metta in moto una serie di eventi che renda possibile cambiare questa premessa. soprattutto è importante ricordare che le premesse che vengono fatte per i pg devono valere anche per i png se è stato stabilito che un personaggio non può fare qualcosa tutti i personaggi non possano fare quella stessa cosa non è possibile ignorare questo perché rende più facile scrivere quest per il master come piccolo inciso avete notato come in tutto il discorso che ho fatto ho accuratamente evitato di usare il termine realistico quando all'interno di un'opera si parla di realismo si intende che l'opera è volta a esaminare gli aspetti della vita quotidiana cercando di eliminare ogni forma di interferenza autoriale o di allegoria nel racconto non è né un sinonimo di coerente né un sinonimo di verosimile dire frasi come no realisticamente il tuo personaggio non può farlo o ah ma realisticamente la mia arma dovrebbe fare più danni perché la usavano gli antichi romani e loro ne sapevano semplicemente non hanno senso non significano nulla il realismo semplicemente non fa parte del gdr non è un ambiente narrativo non è un ambiente creativo non è un'arte in cui sia presa in considerazione la presenza di realismo a meno che voi non stiate giocando per qualche motivo a un gioco in cui interpretate persone normali e le vostre quest rivolvano intorno a aspetti dei piccoli drammi quotidiani di queste persone non so se esiste un gioco del genere immagino comunque che non abbia un così grande mercato fin tanto che i principi gemelli di verosimiglianza e coerenza vengono rispettati sia dai giocatori che dal master è possibile creare il senso di sospensione dell'incredulità e far procedere la narrazione in maniera fluida rendendo l'ambientazione più vivida per tutti quanti diciamo che per questo video è tutto naturalmente voglio sapere da voi se conoscevate questo principio se lo applicate se vi è mai capitato di rovinare delle quest per non essere riusciti ad applicarlo o al contrario di essere riusciti ad applicarlo talmente bene che degli evidenti buchi nella logica di una vostra avventura non sono stati scoperti dai giocatori come sempre se avete domande, dubbi, perplessità lasciate un messaggio qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il Master Kai noi ci vediamo al prossimo video